Ben trovati da TG della mobilità Formula N nella capitale, all'Eur prosegue l'allestimento del circuito per la gara di questo fine settimana, dopo le chiusure delle scorse notti la Colombo chiuderà di nuovo dalle 20.30 di domani alle 5.30 di lunedì da Via Asia a Via del Pattinaggio, nelle stesse giornate la strada sarà chiusa al traffico nel tratto dell'Eur tra Via Laurentina e Viale America e sempre domani è prevista dalle prime ore del mattino alle 12 la chiusura dell'uscita pontina del raccordo annulare, le rampe in direzione Eur, domani e venerdì possibile chiusura per le rampe del Via Totto della Magliana verso l'Aurentina e per il trasporto pubblico deviazioni per sei linee di bus comprese le notturne e tutto dal TG della mobilità. Grazie a tutti!